Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Stefano D'Amore. Bentrovati sorelle e fratelli, il Signore ci invita, ci raccoglie anche oggi per ascoltare la sua parola, per ricevere un lieto messaggio, per unirci a sé ed unirci gli uni e le altre in un vincolo che non soffoca, che non imprigiona, ma che al contrario ci dà forza, consolazione e fraternità. Vogliamo celebrare questo culto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io ti esalto, oh Signore, perché mi hai portato in alto e non hai permesso che i miei nemici si rallegrassero di me. Oh Signore, Dio mio, io ho gridato a te e tu mi hai guarito. Oh Signore, tu hai fatto risalire l'anima mia dal soggiorno dei morti. Tu mi hai ridato la vita perché io non scendessi nella tomba. Salmeggiate al Signore, voi suoi fedeli, celebrate la sua santità, poiché l'ira sua è solo un momento, ma la sua benevolenza è per tutta una vita. La sera ci accompagna il pianto, ma la mattina viene la gioia. Tu hai mutato il mio dolore in danza, tu hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. Oh Signore, Dio mio, io ti celebrerò per sempre. Preghiamo. Signore, nostro Dio, il tuo Spirito ci circonda e ci avvolge. Non esiste luogo in cui tu non possa incontrarci. Nessun luogo è lontano da te o è esente dalla tua benedizione. In ogni luogo, in ogni tempo, la tua mano accompagna il nostro cammino. Che sia sera o sia mattina, tu vieni per liberarci e mutare il nostro dolore in danza. Questa notizia, sempre nuova, ci dà forza e coraggio nel vivere la nostra quotidianità. Signore nostro, ci raccogliamo oggi per lodare il tuo nome. Vogliamo lodarti con le nostre parole, le nostre preghiere, i nostri canti. Vogliamo lodarti con franchezza, con le nostre debolezze e le nostre perplessità, ma anche con il nostro desiderio di incontrarti e con la speranza che non muore. Apri i nostri cuori e rendici capaci di andare incontro all'altro, con lo stesso calore con cui tu vieni incontro a noi. Dacci la possibilità e la gioia di incontrarci, di ritrovarci e di costruire con te una nuova identità. Nel nome di Gesù. Amen. Gesù. Amen. Gesù. Amen. Gesù. Amen. Gesù. Amen. Gesù. Bayern. Ho Stanis Hassith. Gli chiedono la miseria di costruire con le nostre perplessità, la miseria di costruire. Gesù. Amen. Gesù. Amen. Gesù. article рассказ Oriolo 2612 E' il tetto della speranza, ogni il nostro dì sia con per la danza, qui che dubito, tu puoi lasco mare, in un'arte male di fraternità. Ascoltiamo dalla prima lettera di Pietro al capitolo 1, i versetti da 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa del loro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non lo abbiate visto, voi lo amate. Credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Care sorelle e cari fratelli, oggi è la prima domenica dopo Pasqua. Che cosa si predica oggi? È la prima volta che la comunità si riunisce dopo la Pasqua. Da che cosa si parte? Il passo che abbiamo ascoltato è una confessione di fede. Qualcuno dice che fosse una sorta di inno, un canto recitato o cantato, addirittura in occasione del battesimo dei credenti nelle prime comunità cristiane. Quindi partiamo da un canto. La prima lettera di Pietro fa parte di quel gruppo di lettere che sono chiamate le lettere cattoliche o universali e sono delle epistole che erano pensate non per una comunità in particolare o per una città specifica, ma erano delle lettere circolari, un po' come le newsletter di oggi, per tutti i credenti delle prime comunità. E in esse si trovano spesso delle informazioni e delle indicazioni etiche o morali, come comportarsi o come non comportarsi in un tempo difficile come quello che stavano sperimentando. Che cosa fare per essere fedeli a Gesù Cristo in una società ostile? Ostile a questo movimento nascente che stava parlando di salvezza per mezzo di un uomo, che esortava all'amore fraterno, che nel nome di un Dio più grande tentava di abbattere anche le separazioni sociali. E allora penso a chi ascoltava queste lettere e tento di immaginare che cosa provasse. Erano anni molto difficili. Il clima politico, religioso, molto avverso. Si era alla vigilia di terribili persecuzioni per i primi cristiani. E allora questa lettera arriva come un balsamo a curare le ferite. Arriva come una voce che ti sostiene, che ti ridà animo. La voce di qualcuno che conosce la tua sofferenza e che ti dice che quel dolore non è per sempre, che è per un breve tempo, che la fede è più forte di tutto quello che stai provando. Parole quindi che consolavano, che allo stesso tempo esortavano, invitavano a sperare. Mostravano la certezza, la convinzione di essere custoditi da Dio e che un giorno la salvezza sarebbe arrivata. Ma questa lettera arriva alle orecchie dei primi cristiani non solo come una consolazione, ma anche come una carica di adrenalina, direi. Sentire queste parole doveva dare un senso di coesione, di rinascita. Era un riassunto, un concentrato di ciò che abbiamo creduto, ciò che crediamo, ciò che aspettiamo. In questo concentrato si ricorda, si ribadisce che l'odiamo Dio perché ci ha dato una nuova vita, perché non viene per renderci i suoi schiavi, ma per liberarci da quello che ci opprime. L'odiamo Dio che ha risuscitato Gesù dai morti e così anche per noi può cominciare una nuova vita e il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro sono nelle sue mani. Tutto questo, dice l'autore, è possibile e conseguenza del fatto che Gesù è risorto, che la vita ha vinto sulla morte. Il fatto della resurrezione di Gesù ha stravolto tutte le regole e si è imposta come un cardine della fede, come una pietra angolare. Nulla è più come prima, tutto il senso è racchiuso in quell'annuncio. Cristo è risorto. Ma mi torna la domanda dell'inizio. Ma oggi non è Pasqua. Oggi è la prima domenica dopo Pasqua. Non abbiamo altro da dire? Non possiamo andare oltre? Domenica scorsa abbiamo già ricevuto questo messaggio. Era Pasqua, abbiamo ricordato proprio che Cristo è risorto. Diciamo che con domenica scorsa noi abbiamo esaurito quello che dovevamo dirci. Ma allora che cosa succede dopo Pasqua? Il culmine, il centro, l'abbiamo già raggiunto. Che cosa predichiamo adesso? Dovremmo ripetere all'infinito la predicazione di domenica scorsa. Tutte le cose che vengono dopo non sono altro che immagini, conseguenze di quella notizia strabiliante che annunciava la tomba è vuota. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? In fondo, allora, non ci sono altre nuove parole da aggiungere. Ma torniamo ai primi lettori di questa lettera. La carica di adrenalina che avevano ricevuto, la forza di quelle parole, arrivava perché la notizia della resurrezione non era una cosa normale, ma vibrava ancora come una pazzia impossibile in cui però loro avevano creduto. Dire oggi Cristo è risorto a volte sembra quasi una frase vuota, senza senso, senza appigli reali, un'abitudine da mettere in pratica una volta all'anno, ma non è certamente quello che era, cioè una rivoluzione. oggi i messaggi shock sono difficili da elaborare. Vivendo nel tempo dell'immagine, dello slogan, della competizione tra chi inventa la promozione più d'impatto, forse siamo finiti per non farci più stupire da nulla. Le sole cose che ci scuotono sono le cose che stravolgono veramente le nostre abitudini e che ci disturbano e che ci infastidiscono. Ma non capiamo che Gesù è venuto proprio come uno che stravolge la routine, che sorprende, che ci interroga quando vogliamo conservare inalterate le abitudini che abbiamo perché ci fanno sentire più sicuri. Dio ha risuscitato Cristo dai morti. Come si fa oggi a dirlo? Come si può dire qualcosa di così insolito e sconvolgente come Cristo è risorto? Come fare a mostrare la resurrezione di Gesù agli altri, alle altre? Noi dovremmo essere trasfigurati da quella notizia. Chi ci incontra dovrebbe vedere la resurrezione di Gesù stampata sulle nostre facce e nei nostri occhi e nelle nostre parole ma le nostre parole non sono parole d'amore. I nostri occhi incrociano con difficoltà quelli degli altri. Le nostre facce parlano di resurrezione. Sono un motivo di lode. Esultano di gioia ineffabile e gloriosa come dice il testo. Sono domande che dobbiamo farci. Siamo appassionati di questo messaggio? ciò che diciamo a Pasqua lo diciamo lo viviamo ogni giorno abbiamo ricevuto una nuova notizia siamo stati liberate e più di tutto come lo vogliamo comunicare? Il nostro guaio forse è che ci viene spontaneo esprimere con linguaggi razionali tradizionali storici culturali la nostra fede ma fatichiamo a sentirla ad esprimerla a condividerla cosa si può dire dopo Pasqua? Perché oggi stiamo ascoltando questo culto? Beh perché non c'è nulla di più tragico per un credente di abituarsi al fatto che Cristo è risorto non c'è niente di peggio che assuefarsi a questa notizia e non sentire più la potenza sovversiva dell'annuncio della resurrezione perché siamo qui? Perché nonostante noi non l'abbiamo visto siamo felici e beate perché abbiamo creduto in Lui e questa fede ci trasfigura ci trasforma siamo qui per ripeterci delle cose perché è importante ripetersi le cose ma anche per sforzarci di trovare nuove parole che ci aiutino a fare ciò che sta scritto davanti o dentro molte nostre chiese noi predichiamo Cristo credere nella resurrezione ha delle conseguenze imprevedibili che vanno al di là della mia volontà credere nella resurrezione mi fa necessariamente andare a cercare il volto di Dio in chi vive accanto a me nei perseguitati di ogni tempo nei malati nei loro familiari nei senza speranza di ogni luogo per portare che cosa? per portare un canto come quello che abbiamo letto sobrio ma convinto un canto per benedire e lodare Dio perché abbiamo creduto nella sua rivoluzione e nel fatto che questa sia possibile ogni giorno per dire che la promessa della salvezza oggi per noi significa la promessa di avere una vita degna di essere vissuta quella vita che lui ci dà che avremo quando saremo con lui e che noi però preghiamo e lottiamo perché sia anche una realtà di questo mondo fratelli e sorelle non siamo perseguitati come chi ascoltava questa lettera per la prima volta ma vediamo con i nostri occhi l'affievolirsi dei diritti basilari per molti non siamo afflitte da svariate prove come quelle di allora ma riconosciamo che le prove non sono cessate e allora anche per noi arriva l'ecco di quel messaggio anche a noi viene letta una lettera circolare oggi che ci ricorda l'amore di Dio e la forza della fede che Dio ci ha donato cosa si predica dopo Pasqua? si predica la Pasqua con parole nuove con passione si riparte con un vecchio e nuovo messaggio da darci l'un l'altra e da dire a chi incontreremo un ritornello che non smetteremo mai di cantare Cristo è risorto Amen Cristo è risorto dal martirio suo e dall'egrezza fordora e gli sol ci può salva Alleluia 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 Sia l'ore al Cristo Poiché Alleluia Cristo è risorto Cristo risorto è trionfatore la sua vittoria celebra Alleluia Poiché Poiché la vita Alleluia 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 Sia l'ore al Cristo Poiché 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 Alleluia Alleluia Sia l'ore al Cristo Poiché Alleluia 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 Ci raccogliamo in preghiera Dio Dio che sei amore Anche oggi hai fatto risuonare la gioia che viene dall'annuncio della tua resurrezione Mantienici nella comunione che abbiamo vissuto Donaci di restare stretti a te di ricevere la tua forza di essere rinnovate dalla tua guida e dalla speranza che tu porti Ti preghiamo per chi è schiacciato da morte e disperazione per chi è isolato o deluso per chi non vede riconosciuti i propri diritti per chi vive nell'angoscia e nella tristezza per chi è abbattuto dal lutto Signore vicino a noi lontano da noi c'è chi piange lacrime di sofferenza e di delusione lacrime di solitudine e di emarginazione lacrime amare lacrime segrete tu che continui ad agire nel cuore del mondo donaci il coraggio di un gesto fraterno fa che le nostre chiese e le nostre comunità guidate dalla tua vittoria sulla morte diventi un luogo di accoglienza di condivisione in cui ogni persona possa trovare motivo di una speranza nuova e ora raccogliamo ogni nostra preghiera nelle parole che tuo figlio ci ha insegnato Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta nel cielo dacci oggi il nostro pane quotidiano rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non esporci alla tentazione ma liberaci dal male tu è il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli amen il Cristo vivente è con noi e con tutta l'umanità tutti i giorni fino alla fine dell'età presente andiamo in pace nella forza della fede nella solidarietà dell'amore e nella gioia della speranza e la pace del Signore ci custodisca ora e sempre nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amen avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dal pastore Stefano D'amore e poi